Musica Amici e amiche bentornati in nostra compagnia, il nostro viaggio in Molise oggi ci porta a Sant'Elena Sannita per un'occasione davvero importante, c'è la presentazione del primo profumo Sant'Elenese una scommessa vinta, un progetto andato in porto, una promessa mantenuta per scoprirlo, rimanete con noi Musica Cari amici di Viaggio in Molise, di Tele in Molise, eccomi in compagnia di Paolo Fadelli il padre creatore del profumo di Sant'Elena, Voira, com'è nato? Voira è nato per la volontà di un gruppo di profumieri discendenti degli arrotini sant'elenesi che si recarono a Roma in cerca di fortuna alla fine della seconda guerra mondiale da quelle biciclette con la mola dietro sono nati dei piccoli negozi e poi le più belle profumerie romane oggi sopra le insegne delle più importanti case del mondo campeggiano i nomi delle famiglie sant'elenesi e i ragazzi di allora hanno voluto ricordare questa grande storia creando un profumo che hanno affidato a noi io ho un'azienda che proprio si occupa di realizzare brand di profumeria artistica di alto livello e quindi è nato il progetto Profumi di Sant'Elena che è una collezione della quale collezione Voira è il primo figlio e Voira è il profumo del vento, quel vento che qui ispira forte e sferzante e che non è quel vento dolce, quel ponentino di Roma è un vento che tempra gli uomini e quindi Voira ha carattere forte, ha carattere audace è un profumo per chi non cede a compromessi direi Fadelli, lei è uno dei nomi più illustri della profumeria artistica mondiale abbiamo detto che Voira è un profumo per le persone decise, le persone forti ma quali sono le peculiarità della sua essenza, le punte che si sentono a primo impatto? Sì, nella testa della piramide olfattiva ci sono delle note di timo e delle note di salvia nel cuore ci sono delle note di mirto, delle note di ginestra e nel fondo c'è del legno di quercia e del muschio vegetale, ma cosa particolarissima c'è dell'ossido di zinco questo fa sì che alla fine di questo bouquet ti resti un qualcosa di metallico che ricorda un po' la lama, la rota Anche perché, anche la confezione che è particolare perché è lo stesso tappo della boccetta di profumo fatta con la pietra della rota, della rota, cioè della mola Sì, il tappo è fatto con lo stesso materiale, come diceva giustamente, della mola ed è stata anche questa una sfida, perché chi fa mole da sempre non è abituato a far tappi e le sezioni dei tappi sono molto molto sottili rispetto a quella che è una sezione di una mola e quindi anche da un punto di vista costruttivo quel tappo è veramente una sfida vinta Massimino De Tollis, presidente della fondazione Il Cammino del Profumo Oggi una scommessa vinta, una promessa mantenuta, un progetto andato in porto Era solo il 2002 quando l'idea del Museo del Profumo approdava in consiglio comunale Oggi 25 ottobre 2015 addirittura abbiamo il primo profumo di Sant'Elena, Voira Sì, è vero, è stato un percorso lungo, come ricordavi è cominciato nel 2002 e nel 2004 è nata la fondazione Il Cammino del Profumo di cui sono il presidente e mi onoro di rappresentare tutti gli altri soci della fondazione E' un percorso un po' difficile, un po' duro, un po' contrastato Però finalmente l'anno scorso, nel 2014, agosto 2014 abbiamo raggiunto il primo traguardo Quella dell'inaugurazione del Museo del Profumo E l'anno scorso abbiamo promesso un'altra cosa Subito, entro poco tempo, si sarebbe realizzato il profumo di Sant'Elena E questo è stato invece fatto realmente entro pochissimo tempo Abbiamo stimolato e tirato per la giacca gli amici profumieri che fanno parte della fondazione A costituirsi di una società, la Rota E appena in un anno hanno realizzato questo profumo Il profumo di Sant'Elena, il nome è la Voira Devo dire che in un anno abbiamo raggiunto anche un altro risultato Quello dell'Orto Botanico Quello del primo lotto dell'Orto Botanico Che solo due mesi fa, ad agosto 2015, abbiamo presentato e inaugurato E' una scommessa vinta E' una soddisfazione E' un esempio da dare con questo lavoro e con questa riuscita Agli altri comuni della regione Molise Perché questo profumo, la Voira, racconta la storia di una comunità Racconta la tragedia di una comunità Che è partita povera Alla ricerca di dignità, di lavoro Ed è riuscita nella vita a trovare questa dignità, a trovare successo E poi adesso ritorna alle proprie origini Non dimentica le proprie origini E fa quello che mi auspico possono fare le altre comunità molisane Quello di tornare nelle loro paesi di origine E portare la loro professionalità, il loro lavoro E quindi far diventare una tragedia quella dell'emigrazione In una favola ed in realtà come è successo qui a noi a Sant'Elena Sant'Elena Sannita, erede di una tradizione profumiera antichissima Oggi è conosciuta in tutta Italia con le più delle 400 profumerie Presenti in Roma, Napoli, Milano e non solo Addirittura anche nelle capitali europee Ci sono prodotti dell'alta profumeria appunto sant'elenese Oggi qui in questo polo polifunzionale Sperimentazione di conoscenza, anche di didattica Il profumo, un prodotto come è sinonimo anche di impegno Di abnegazione ma anche di fedeltà verso la tradizione È vero, infatti oggi è con grande orgoglio Che noi festeggiamo questo evento Innanzitutto perché siamo orgogliosi Che una comunità così piccola Porta in alto il nome di Sant'Elena E del Molise nel mondo Perché fanno parte della società La Rota E della fondazione Profumieri veramente prestigiosi Conosciuti nel mondo della profumeria a livello europeo Ma io direi di più A livello mondiale ci sono alcuni profumi Che vengono ventuti nelle migliori profumerie Di New York, in America, in Cina In tutto il mondo E questo appunto è un onore Perché riuscire da questo piccolo lembo di terra Portare in alto il nome di Sant'Elena e del Molise Ci riempie di orgoglio Ma non ci accontentiamo L'abbiamo detto nella conferenza E lo ripeto qui Siamo un po' testardi Non ci accontentiamo del risultato raggiunto E vogliamo che questo museo del profumo Diventa un polo d'eccellenze per la regione Molise E per l'Italia Che ruota Non a caso uso la parola ruota A richiamare la ruota dell'arrotino Ruota intorno al mondo del profumo Abbiamo le capacità Abbiamo le professionalità come i profumieri Abbiamo già lo studio fatto per la ricerca E per coltivare piante officinali con nuove essenze Tutto questo fa parte di un ulteriore obiettivo da raggiungere a breve Quello di riuscire a fare un profumo Con le erbe officinali nate in questo territorio Ed un laboratorio qui nel nostro Molise a Sant'Elena Grazie 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 Grazie